Piazza d'onore dolce o amara per Coco Kozlinski? Dolce per quando era partito ieri, ho trovato l'assetto per andare davanti, diciamo, era dura da trovare l'assetto tra velocità e constanza. Purtroppo l'ho trovato un po' tardi ieri nel finale 1, oggi mi sono giocato il massimo, però oggi sono arrivato dietro a, credo, il pilota dal momento che non sbaglia, c'è niente da dire, oggi il pilota del momento è pex, ho tentato tutto, sono anche lavato, ci ho tentato fino all'ultimo, penso, meno male che ho dato un po' di spettacolo in finale, perché se no andava via, ci dava un dritto a tutti. Complimenti comunque per la tua forza, comunque sempre e sincerità. C'è questo, ti ringrazio e ci vediamo al Mondiale, sperando aver trovato il poco per passare il nostro amico.